Ho aderito alla campagna del carovana dei ghiacciai perché mi pare che questo sia un modo corretto per porre l'accento su questa grande situazione di difficoltà in cui vivono i ghiacciai del nostro arco alpino e credo che questo rappresenti forse l'iceberg di una situazione, di un impatto che il cambiamento climatico sta avendo sui nostri ecosistemi. Questa mattina ho portato un piccolo contributo di pensiero in relazione al fatto che oggi di fronte al buio della ragione serve il pensiero, serve la poesia, serve la capacità di renderci conto che la nostra casa comune è davvero in gravi difficoltà e per farlo io credo che dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere e il nostro modo di ragionare. Il cambio del paradigma è per me in primo luogo la cultura del limite, questa parola che non ha cittadinanza nel dibattito pubblico e che dovrebbe diventare al centro di un nuovo modo di essere nel nostro rapporto col pianeta.